Nel caso in cui apprezzassimo un cambio di atteggiamento da parte del governo che fuoriesca dallo stile dell'ostruzionismo governativo, allora noi ovviamente ne trarremo le conseguenze. Noi non siamo innamorati dell'ostruzionismo, non stiamo sulle barricate per estetica dell'opposizione. Vogliamo far valere le nostre ragioni, ci interessa discutere nel merito. Se ci fosse questa buona volontà da parte del Ministro Boschi, credo che ne trarrebbe vantaggio l'Italia.